Amici di Verdea Nord-Est, sempre sul castello che dà sulla piazza di Marostica, finalmente anch'io come i presentatori proprio quelli importanti, una bionda e una mora, sono in compagnia di Rossio Gonzales Rodrigo e di Vanessa Castro Vega che sono due ragazze che stanno compiendo uno stage qui a Dopo Veneto, si stanno occupando un po' di conoscere come funziona questa organizzazione, allora per loro è la prima volta probabilmente all'interno di un'attività così definita in Italia, allora quali sono le vostre impressioni? Intanto possiamo pure camminare. È buona la impressione, sì sì. Allora le ciliegie vi piacciono? Sì, nos piace molto la ciliegie, nos piace molto. Allora quali sono le cose più interessanti che avete potuto vedere durante questa vostra esperienza professionale con Dopo Veneto? Un po' il settore articolo, che non manca un po' di esperienza in questo settore, ma penso che è buono per noi. Allora sicuramente è semplice da capire, ci diceva proprio che è un'esperienza, un'organizzazione che a loro manca e comunque è stato il settore articolo quello più interessante, allora invece per Rossio questa esperienza professionale di Dopo Veneto che cosa ha portato? No, lo stesso che a lei, noi abbiamo fatto qualcuna lezione di questo, ma non molto e per noi è un'esperienza buona. Con le differenze tra magari l'Italia e la Spagna? No, no, penso che c'è molta differenza. Sono più buone però le ciliegie italiane, le ciliegie di Marostica. Sono buone qua, anche la Spagna. La ciliegie del Valle del Certo in Spagna è più buona. No, su questo consentitemi dobbiamo di sentire, sono più buone le ciliegie italiane. Comunque, questa esperienza che cosa vi porterà, che cosa vi porterete a casa di questa esperienza in Italia? Non lo so, penso che l'esperienza in Dopo Veneto è un'organizzazione di produttori grande ma penso che è una bella esperienza per noi. Allora, invece Rossio cosa porterà a casa? Un'organizzazione come Dopo Veneto esiste in Spagna? Sì, sì, ci sono molti, sì, sì, anche nos è piaciuto, la gente è molto gentile con noi, abbiamo imparato molto e facciamo una bella esperienza qua. Allora, io ringrazio le nostre due amiche spagnole Rossio e Vanessa, naturalmente abbiamo già strappato loro la promessa che una volta tornate con le nostre telecamere andremo a trovarle in Spagna per verificare se veramente le ciliegie spagnole sono buone. A voi!